Per quel che riguarda i detersivi e i prodotti di uso domestico, gli oli essenziali devono seguire il norme di utilizzo di tutti gli altri ingredienti e quindi devono rispettare le norme del REIC, di cui avete avuto un'ampia indicazione stamattina nell'intervento della dottoressa Simonelli, del CLP, l'ambito di normativi che si occupa degli aspetti pericolosi delle sostanze, del regolamento detergenti e del regolamento biocidi nel caso che si applichino a questo. Non dimentichiamo che essendo ingredienti volatili possono rientrare anche nella definizione di sostanze organiche volatili, il che può comportare alcune restrizioni.